Benvenuti! Oggi vi presentiamo le cuffie Sony MDR RF810RK. Cuffie wireless con archetto autoregolabile saranno facili e pratiche da utilizzare, ideali da collegare alla tv, ma non per essere utilizzate per passeggiare o fare attività fisica. Le cuffie trasmetteranno tramite radiofrequenza da 20 a 20.000 Hz e non utilizzeranno connessioni Bluetooth. Disporremo di una portata fino a 100 metri. Il driver al neodimio da 40 mm ci darà un audio potente e bilanciato. La ricarica avviene tramite batterie ricaricabili che andranno messe nella cuffia di sinistra. Basterà ruotare la plastica esterna e seguire la scritta Open per l'apertura. Il tempo di ricarica sarà di circa 16 ore e potremo usufruirne per circa 13 di ascolto. Nelle cuffie sarà possibile selezionare il canale da utilizzare, in questo caso ne avremo due. Il canale dovrà essere lo stesso impostato sul trasmettitore. Infine, sulla base del trasmettitore sarà possibile impostare la riduzione del rumore di fondo. Per la recensione completa sul prodotto seguite il link nella descrizione e ricordatevi di visitare il nostro sito www.migliorprezzo.it